Trasferta sul campo della Varsina per la capolista Gozzano dopo il netto 3-0 con il Bra, il rosso-blu vogliono proseguire la loro marcia. Devo essere sincero, così Gaburro nel dopogara ad ammettere che i ragazzi mi hanno stupito positivamente. Dopo il K-O di Olginate affrontavamo un'ottima squadra con tante defezioni che potevano complicarci la vita. Ora per il Gozzano sulla carta una sfida che sembra alla portata. Si diceva così, anche prima di Olginate sappiamo tutti come andata a finire. In questo campionato, conclude Gaburro, se non sei sempre sul pezzo, se non sei concentrato al 100%, puoi perdere contro chiunque. In eccellenza c'è una partita che non è come le altre. Verbagna-Juve d'Omo in programma alle 14.30 allo Stadio Pedroli. Si tratta di una sfida diversa sentita che rievoca una rivalità antica al di là dei discorsi e sulle diatribe su quale sia il vero Verbagna, ormai arcinota la polemica tra SDC Verbagna e città di Verbagna. I Granata di Mellano si presentano al derby con il vento in poppa grazie a quattro vittorie consecutive che hanno lanciato la Juve d'Omo in piena zona playoff, ampiamente avanti ai cugini bianco cerchiati. Che questa non sia una partita uguale alle altre, l'ho capito il primo giorno che sono arrivato a Domodossola. Ne siamo consapevoli tutti dell'importanza di questo match e faremo di tutto per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Le parole del tecnico Solano. Sull'altro fronte invece Alessandro Ferrero deve fare i conti con una situazione complicata. La società gli ha rinnovato la fiducia nonostante la situazione di classifica sia lontana da quelle che erano le aspettative. Ma lo stesso allenatore del Verbagna sa che per domani per lui esiste un solo risultato a disposizione per blindare la panchina. Da una parte dunque un Verbagna che per risalire la china e per essere all'altezza delle sue ambizioni è quasi con le spalle al muro, dall'altra una Juve d'Omo serena e tranquilla, chissà chi la spunterà. Nel resto del programma di eccellenza la capolista Baveno è in trasferta sul campo della Licese. Spicca la partita del Forlano dove lo Stresa riceve la romentinese Cerano. Punti importanti in chiave salvezza quelli che ci saranno a Pavarolo tra il Pavarolo e il Piedimolera con i ragazzi di Boldini a caccia della prima vittoria in campionato. Nel resto del programma Lucento Orizzonti United, Arona San Maurizio, Borgo Vercelli Pro Settimo e il derby valigiano Pondonà a Greville.